buongiorno a tutti 7 07 lunedì 22 gennaio ben ritrovati ben ritrovate good morning milano cristal radio fm 96.2 da plus e tutto quello che avete per ascoltarci siamo qui per una nuova settimana insieme come state cosa avete fatto nel weekend ne parleremo questa mattina da qui in diretta dalle 7 appunto dalle 7 07 fino alle 9 più o meno qui dagli studi di milano all news in quel di san siro direttamente su cristal radio direttamente nelle vostre case grazie anzi per averci aperto le porte delle vostre case la portiera della vostra auto se siamo in auto con voi non so lo zainetto in cui siamo inseriti nel cellulare da cui ci state ascoltando noi siamo con voi siamo con voi tutta la mattina siamo con voi tutto il giorno qui su cristal radio noi finiamo alle 9 ma poi dopo di noi tanta tanta altra bella musica e tante informazioni e tanti tanti tanto milano perché lo sapete cristal radio milano si sente allora appunto volevo sapere che cosa avete fatto nel weekend fatemelo sapere 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 nostro numero di whatsapp arrivano già i primi whatsapp adesso ve lo leggo perché alberto ci manda anche un'informazione molto importante attenzione perché in piazza miani oggi c'è un incontro degli agricoltori mobilità mobilitazione nazionale di agricoltori ad oltranza quindi molto probabilmente ci sono trattori che passano da piazza miani quindi zona sud ovest della città mi raccomando se dovete andare da quelle parti pazienza molta pazienza mister rain e clara l'ultima notte con te qui alle 7 e 11 minuti su cristal radio allora dicevo arrivata questa comunicazione anzi ringrazio alberto che ci ha girato questa informazione al 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 allora oggi lunedì 22 gennaio sì ok quindi dalle ore 9 fino a sera ti c'è scritto qua quindi insomma vediamo cosa cosa succederà c'è un appuntamento per difendere la nostra agricoltura e i territori appunto in piazza miani a milano mobilitazione nazionale degli agricoltori ad oltranza quindi attenzione una richiesta appunto che arriva dal comparto degli agricoltori questo è un responsabile della lombardia appunto di questo movimento adesso qui il messaggio non c'è scritto che cosa adesso controlliamo bene perché insomma un po strano questo messaggio c'è anche il mio cellulare ok va bene comunque state attenti se passate da piazza miani dovrebbe appunto esserci questo presidio degli agricoltori dalle ore 9 fino a questa sera quest'oggi qui alle ore appunto dalle 9 in piazza miani ok quindi zona sud ovest vicino a barona da quella parte lì no quindi attenzione se passate di lì state attenti al alla mobilitazione che sicuramente porterà un po di traffico e confusione ma poi adesso tra poco ci ricordiamo anzi con luce verde per sapere meglio tutto quello che c'è da sapere sul traffico attenzione perché settimana difficile settimana difficile anche per i mezzi pubblici perché mercoledì indetto lo sciopero ebbene sì allora sciopero dei trasporti mercoledì 24 gennaio a milano mezzi pubblici a rischio disagi anche per i treni questo il titolo di repubblica milano lo stop per i mezzi ATM è previsto come sempre tra le 8 e 45 e le 15 e poi dalle 18 fino a fine servizio la agitazione poi interesserà anche i mezzi di treno che operano sull'infrastruttura di ferrovie nord questi titoli fatti così sono veramente cosa vuol dire cosa significa comunque significa che dovete stare attenti ecco questo che dovete stare all'occhio a vedere tutto quello che sono i vari orari andare sui siti di ATM e di treno per sapere i vostri treni se ci saranno o i vostri autobus se passeranno anche ATM appunto fa la sua comunicazione sul sito ufficiale di ATM e dice sciopero nazionale annunciato da USB e Alcobas mercoledì 24 gennaio linea TM dice appunto a Milano lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee comunica TM dalle ore 8 e 45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio potrebbe potrebbe avere conseguenze se non è ancora ovviamente sul condizionale non si sa mai prima ovviamente quanti disagi ci saranno le sigle USB e Alcobas sono stile che abbiamo imparato a conoscere che sono abbastanza seguite non sono magari le più seguite in assoluto ma sono abbastanza seguite quindi l'adesione potrebbe essere un po' più alta rispetto ad altri sciopero in cui ci siamo abituati praticamente a non accorderci neanche dello sciopero vero è che il disagio più grosso lo fanno anche già solo comunicandolo diciamo nel senso che già solo comunicando avendo il rischio il dubbio che magari una metropolitana chiuda o chiuda per parte del suo tratto ovviamente si esce di casa con altri mezzi quindi vuol dire aumentare il traffico quindi vuol dire aumentare il caos della città se invece siete in giro quest'oggi siete in giro in questo momento possiamo sapere la situazione del traffico in diretta grazie a chi? Grazie a Luce Verde e allora ci colleghiamo subito con Luce Verde per sapere la situazione del traffico su Milano in questo istante una bella fotografia direttamente dalla redazione di Luce Verde Penningu e Lenny Kravitz 7 e 22 minuti ed eccoci qua nel giornale a leggere poi le notizie tutte e due i giornali principali di Milano o meglio delle sezioni principali dei giornali di Milano le sezioni di Milano dei giornali principali d'Italia ecco questo volevo dire cioè Repubblica e Corriere della Sera tutte e due le sezioni di Milano aprono in home page con la chiusura dell'old fashion e si Repubblica Milano intitola in coda l'old fashion per l'ultima notte in pista lo abbiamo amato chiude la discoteca dove nel 1968 suonò pensate Jimmy Hendrix e tra i tanti giorni anche i ragazzi arrivati per la prima volta che arrivano proprio appunto per la chiusura ultimo giorno dell'old fashion di Milano invece intitola il Corriere Milano dice la fila al freddo dei clienti i posti di addio e Cominardi il proprietario dice cercherò una nuova sede perché sappiamo appunto che chiude perché perché la triennale non rinnova il contratto con la proprietà per la locazione appunto della discoteca dell'old fashion proprio sotto la triennale no ok proprio lì sotto code all'ingresso per la serata di chiusura nonostante il gelo sui social molti messaggi tra cui ad esempio sono cresciuto tra queste mura perdiamo un pezzo di cuore e il gestore appunto Cominardi dice non sarà facile trovare un nuovo posto all'altezza ma ci proverò quindi insomma una bella promessa per la città che dice che insomma rivedrà uno dei pezzi importanti della sua città forse ritornare perché appunto il Corriere ricorda che dopo il Rolling Stone il propaganda l'Atlantic ha chiuso per sempre anche un'altra delle discoteche storiche della città e soprattutto dice non a causa della crisi o quell'altro perché appunto dopo il Covid si era anche ben ripresa l'old fashion ma perché appunto la triennale ha deciso di riprendersi i suoi spazi posso dire comprensibile posso dire che effettivamente la trovavo leggermente fuori luogo nel senso che se vogliamo fare la triennale non posso quella discoteca lì sotto non so quanto facesse al caso stare lì speriamo più che altro magari cercare visto che comunque la triennale è cultura la discoteca è divertimento ma fa anche un certo tipo di cultura si cerca almeno o meglio di fare un certo tipo clubbing quella musica che piace tanto a molti ma forse sarebbe stato interessante trovare una soluzione e darsi una mano a vicenda a dire guarda non ti rinnovo quello ma c'ho un amico che ha uno spazio A cioè poteva anche semplicemente essere così vediamo e magari poi è quello che sta avvenendo appunto Cominardi dice non è facile non sarà facile trovare un luogo all'altezza di questa stupenda cornice come dice lui ma sicuramente mi darò da fare per cercare di trovare una soluzione all'old fashion ok pensate che l'old fashion come locale nasce nel 91 proprio così come come lo ricordiamo è stato è un luogo storico in realtà fino agli anni 60 utilizzato e con tantissimi tantissimi che sono passati lì tra cui tra parentesi appunto cioè ci suonò nel 68 se non ho se non erro Jimi Hendrix quindi pensate voi cioè fin dove si era spinto tanto e fin dove soprattutto ricordiamo che questo cosa era Milano e quanto era attrattiva per certi tipi di nel 68 sì nel 68 all'epoca si chiamava Piper si chiamava appunto nella parte sotto quindi magari chi di noi a qualche anno in più se lo ricorda mio papà spesso lentamente quando passiamo di lì mi diceva ma qui c'era il Piper venivo qua sempre a ballare contro mamma e quindi sì proprio lì proprio lì quello quello lì quello che fu il Piper che poi diventò l'old fashion e che ora invece vede chiudere i suoi battenti tra tantissimi tantissimi migliaia e migliaia di post sui social li potete trovare li vedrete chiunque veramente ha qualcuno nel proprio feed che è stato all'old fashion ieri sera e che quindi ha visto la chiusura di questo storico locale di Milano ma appunto Cominardi il proprietario dice cerco un posto nuovo e lo riapro auguri allora ti aspettiamo Cominardi LDA LDA alle 7.33 minuti bentornati ben ritrovati nella seconda parte nella seconda mezz'ora di trasmissione vi ricordo il nostro numero di whatsapp 3317853555 grazie ai whatsapp che stanno arrivando arrivato pochi minuti fa mentre andava appunto la canzone di LDA con buongiorno Fabio buongiorno Cristallini ripartiamo per una nuova settimana carica di impegni beh sì effettivamente soprattutto con questo sciopero dei mezzi di mercoledì gli impegni saranno un po' da incastrare qua e là insomma impegni di tutti i tipi voi cosa state facendo questa mattina? impegni che impegni avete? esami universitari? in questo momento c'è la sessione so perché mi tengono aggiornate le ragazze della redazione Viola della produzione mi dice che ci sono le sessioni d'esame anzi è in sbattimento perché mercoledì c'è un esame ma due esami anzi mercoledì ma c'è lo sciopero dei mezzi pensate vedete come lo sciopero dei mezzi può portare anche ad avere dei problemi del genere ho due esami uno da una parte della città uno dall'altra parte perché poi volesse mai che la stessa università faccia gli esami tutti in un posto no ma va uno in Vianoto e l'altro in Santa Sofia se ti va bene se no se hai la festa del perdono se ti va bene se no sei in conservatorio se ti va male quindi insomma dietro a questa città ma c'è lo sciopero e quindi come fare non si sa altri impegni impegni lavorativi ne avete tanti ne avete pochi beh è lunedì oggi è il giorno dell'agenda oggi è il giorno della ripartenza oggi è il giorno in cui si guardano tutti gli impegni della settimana tra questi anche ovviamente quali è il punto del lavoro e quindi dobbiamo augurarvi buon lavoro ma chi può augurarvi buon lavoro meglio di me beh è Filippo Poletti top voice di LinkedIn sapete che tutti i giorni Poletti il caro Filippo racconta sulla rete su LinkedIn notizie storie di lavoro il lunedì ci fa una sorta di recap qui per noi per augurarci buon lavoro e allora a te Filippo buon lavoro a tutti la prima parola chiave della settimana è capo abolite dalle comunicazioni ufficiali e dai bigliettini da visita le parole direttore vice direttore e così via tutto questo per favorire un ambiente di lavoro in cui ci si confronta la pari e tutti si sentono liberi di intervenire accade ad AXA Svizzera la filiale della compagnia di assicurazione francese con 4200 dipendenti ci si confronta dunque alla pari la seconda parola chiave della settimana è benessere secondo uno studio dell'osservatorio sullo smart working del Politecnico di Milano gli smart worker godono di livelli più elevati di benessere rispetto ad altre categorie di lavoratori benessere psicologico fisico e relazionale quello che incide sulla qualità di lavoro è se si lavora per obiettivi con tempi flessibili e sentendosi valorizzati lo dice il responsabile scientifico Mariano Corso lo smart working flessibile e per obiettivi fa dunque crescere il benessere la terza e ultima parola chiave della settimana è vacanze e se la casa per le vacanze fosse gratuita per i dipendenti che prendono fino a 25.000 euro lo prevede poste italiane Capri Favignana Lipari e Jesolo sono alcune delle mette possibili e inoltre fiocco giallo cioè il pacco dono con prodotti per la cura e l'igiene dei neonati inviato da luglio a tutti i dipendenti diventati genitori o che adottano e prendono un bambino in affida e l'attenzione ai dipendenti e alle loro esigenze e tanti applausi per Calcutta ma anche per coloro che ci stanno scrivendo al 331 7853555 quella che state ascoltando è Crystal Radio e questa è Good Morning Milano la sveglia dei milanesi il vostro morning show che vi sveglia tutti i giorni che vi porta un po' di compagnia e di informazioni in giro per la città a proposito di informazioni sapete che dal nulla dopo che abbiamo detto che andava buttato giù andava ricostruito abbiamo fatto un centro commerciale ne costruiamo un altro a Rozzano e un altro a San Donato sto parlando ovviamente dello stadio di San Siro niente è arrivato così a sorpresa una proposta di ristrutturazione dello stadio stadio San Siro Repubblica Milano dice i dettagli del nuovo progetto di ristrutturazione così lavori e partite potranno coesistere l'architetto Fenjevs 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 si chiama così ma uno si chiamasse l'architetto Rossi no l'architetto Fenjevs Fenives Fenives dice divideremo il cantiere in tanti lotti però architetto genio ho capito dividono il cantiere in lotti come fosse una grande novità va bene il piano in comune il 31 inter è alla fine ma cosa vuol dire il piano in comune il 31 inter è alla finestra senza neanche una virgola così il mio monitor è sporco non è una virgola il piano in comune il 31 inter è alla finestra cioè sta a guardare quello vuol dire scrivi sta a guardare ci stava comunque sta di fatto che si scopre l'acqua calda nel 1989 lo stadio di San Siro viene ricostruito in parte per il terzo anello si viene costruito da zero il terzo anello viene ristrutturato tutto questo durante le partite di campionato famosissime le foto di Milan-Napoli con dietro che si vede il cantiere ovviamente fermo durante le due ore della partita ma che poi ricominciava appena uscivano tutti i tifosi niente si scopre nel 2024 che una cosa fatta nell'89 si può rifare anche oggi ciumbia però è la tempesta brainstorming tempesta di cervelli per riuscire ad arrivare a sto risultato no sta di fatto che soprattutto quasi quasi com'è che passa adesso la linea del fatto che si può ristrutturare lo dicevano cittadini lo dicevano buona parte dei consiglieri comunali lo dicevano almeno tre o quattro studi tra cui accetti magistretti che dicevano che si poteva architetti di un certo livello che dicevano che si poteva fare beh il comune ha ascoltato altri per poi arrivare alla stessa conclusione vabbè meglio tardi che mai era ora sta di fatto che adesso andremo a vedere cosa decideranno le squadre perché adesso sono davanti proprio alla realtà delle cose allora volete fare business con il calcio e quindi con uno stadio fatto bene anche diciamo in semi proprietà vostra gestito praticamente solo da voi diviso equamente tra rossoneri e nerazzurri ma farne un tempio ancora di più del calcio benissimo ecco che la possibilità c'è volete fare i soldi con i centri commerciali quello è un altro discorso ecco va bene quindi staremo a vedere quello che mi dispiacerebbe è se in tutta questa manovra tra parentesi che viene a costare pochissimo qualche centinaio di milione ma comunque pochissimo in confronto alla ricostruzione all'abbattimento della ricostruzione dello stadio spero si intervenga anche sul circondario cioè su quello che è il famoso piazzale su quello che è tutta la parte intorno allo stadio che potrebbe avere servizi utili sia allo stadio ma soprattutto a uno stadio a una venue come dicono molti adesso quelli bravi dei concerti così cioè una venue che sia attiva tutto il giorno tutti i giorni e che sia anche buona parte integrata all'interno del quartiere Sfere Basta Marrakesh 15 piani e abbiamo parlato di San Siro poco fa che lo ristrutturano come lo mettono a posto sì o no poi adesso vedremo perché questa è l'ennesima adesso arriveranno i rendering gli ennesimi gli ennesimi gli alberi messi ovunque li mettono anche in mezzo al campo in mezzo al centro metteranno dei baobab giganti secondo me conoscendo i rendering ma su San Siro c'è un'altra questione perché lo leggiamo da Corriere Milano concerti a San Siro cosa è successo? Vasco dice ai residenti la mente non è di Corso Cuomo non lo so fare lo sapeva fare il buon Masieri non riesco a fare l'imitazione di Vasco il sindaco Sala dice l'agenda non si cambia cosa è successo in poche parole che da maggio a settembre saranno previsti 29 spettacoli ma alcuni confliggono con la delibera del comune ma dai che strano l'avevamo detto noi che c'era questo problema perché qual è il problema ad esempio vi faccio due esempi che qui porta il Corriere della Sera il 29 maggio già abbiamo il punto di metallica ma ad esempio il 30 giugno che mi fa morire perché domenica 30 giugno sono previsti due concerti quello di Max Pezzali e di Tedua ok in contemporanea nelle due venue cioè uno all'ippodrome uno allo stadio e la delibera diceva che non bisognava farla questa cosa però posso dire per una volta tra parentesi sono parte in causa perché noi abbiamo la sede qui a San Siro la sede di Milano News io abito qui nel quartiere e so che rottura di scatto è quando ci sono i concerti in contemporanea perché vi ricordo che i concerti non danno fastidio da molto più fastidio il calcio e quella roba lì i concerti non danno fastidio perché il pubblico arriva piano piano non è sì quando escono ma quando escono non è sempre così ma non è un problema se ci fosse solo uno il problema è quando gli fai la Maura che la Maura non è nata per fare i concerti e il problema è quando ne fai due insieme ok sta di fatto e cosa succede appunto ci sarà il 30 giugno due concerti quello di Max Pezzali e quello di Tedua ad esempio questo è un esempio di quello che non verrà in teoria doveva esserci una distinzione cioè non poteva succedere perché la delibera del comune che è stata approvata qualche mese fa dice che non ci possono essere due concerti contemporaneamente e in più ci dovrebbero essere anche due giorni di riposo tra un concerto e l'altro e non ci saranno ma è ovvio perché il buon Pezzali e il buon Tedua molto probabilmente che di fare quel concerto gli hanno deciso almeno un anno prima di oggi non di giugno di quell'anno cioè per prendere un avenue come San Siro per prendere uno stadio come San Siro per fare un concerto ma anche l'ippodromo o per fare un festival all'ippodromo servono anni di preparazione servono prenotazioni che vanno di anno in anno quindi venga a deliberare il comune ma magari scrivere che partiva dall'estate 2025 sarebbe stato un po' più intelligente che farà partire dall'estate 2024 con il rischio ed è questo il problema che alcuni comitati stanno pensando di fare il ricorso al Tar e quindi ricorsi su ricorsi tra parentesi scusate ma voi che avete preso il biglietto prendete un biglietto se non l'avete ancora preso prendereste un biglietto sapendo che su quel concerto potrebbe il Tar dire che non si può fare ecco allora perché le parti non si parlano mai cioè io posso dire da domani no alle auto inquinanti ma se le continuiamo a produrre devo dire no alle auto inquinanti dal 2030 così che chi le produce abbia il tempo di cambiare la produzione ed arrivare a fare auto non inquinanti perché pensare di fare no agli stadi no ai concerti a San Siro quando sappiamo già che quando avete fatto quella delibera caro consiglio comunale anzi cara giunta comunale c'era già un calendario più o meno prestabilito perché Vasco Rossi quando fa il concerto a San Siro lo dice lo decide un anno e mezzo due anni prima quasi ok quindi non era cioè veramente all'ABC della gestione di situazioni così grosse comunque dopo di noi sapete cosa va in onda senti questa e questa settimana grande settimana di musica sapete perché perché ce lo dice a Borgio Curti The Human League Don't You Want Me 8 e 08 ben ritrovati qui su Cristiano Radio ben ritrovati a Good Morning Milano e quest'oggi parliamo di arte perché ci ha raggiunto in studio con noi Eva Amos buongiorno Eva buongiorno Fabio buongiorno a tutti grazie mille Eva di essere qui allora con Eva spesso volentieri appunto parliamo di arte anche perché tu sei una curatrice oltre che un artista perché sappiamo che dipingi suoni la chitarra reggiamente sei appunto anche una curatrice di mostre tra cui questa art exhibition che appunto inizia il 25 di gennaio dal titolo Restart volume 2 diciamo esattamente perché la seconda edizione la prima edizione abbiamo inaugurato nel gennaio 2023 23 è come come tradizione tradizione di gennaio esattamente gennaio è il mese della ripartenza quindi il Restart appunto anzi la prima l'avete fatta mi dicevi quando gennaio 22 giusto? 23 23 diciamo che dopo la fine di tutte quelle che erano le restrizioni era forse uno dei primi gennaio che si facevano un po' più liberi allora abbiamo fatto un davvero proprio Restart appunto quest'anno invece diventa tradizione quindi ci auguriamo appunto tutti i gennaio di averti qui a raccontare di questa esibizione di questa mostra d'arte che appunto inizia il 25 di gennaio presso Abarth che sta in via Passo Pordoi zona Fondazione Prada adesso diciamo esatto perché sì zona tra Corvetto Porto di Mare no Brenta no Brenta scusa Brenta ho sbagliato Brenta però in realtà è Fondazione Prada facciamo prima a dire così Restart allora che cosa con chi e cosa ripartiremo in questo gennaio allora ripartiamo con 41 artisti internazionali naturalmente e abbiamo artisti che provengono comunque da molto lontano come per esempio da Canada Brasile Giappone e quindi ci saranno proprio le visioni diversissime tra di loro che parleranno appunto del tema di ripartenza nuovo inizio con la linguaggio artistico ovviamente voi avete già visto tutte le opere perché giustamente dovete sapere chi esibisce chi esibisce che tipo di opere andremo a vedere saranno solo quadri saranno cose cosa abbiamo di livello questo giro allora abbiamo naturalmente maggior parte delle opere sono le opere pittoriche astratte figurative eccetera eccetera però abbiamo anche le fotografie e abbiamo anche delle bellissime sculture quindi ci sarà un po' di tutto in più oltre diciamo l'arte abbiamo anche la musica perché la serata di opening sarà accompagnata dalla musica dal vivo del band che si chiama Acoustikers che tra l'altro uno dei musicisti di questo gruppo è anche un artista che espone alla mostra si chiama Franco Fabri che saluto in duplice veste quindi esatto esatto quindi cerchiamo sempre di coinvolgere diciamo più come mai non hai suonato tu scusa sei brevissima a suonare ma non posso fare tutto la duplice veste è per chi si esibisce ovviamente Eva avrà da gestire tutto quanto appunto ricordiamo che l'opening il vernissaggio si dice ancora così si si sicuramente ci saranno le opere che non sono ancora asciugate bene infatti ricordiamo appunto che vernissaggio che aveva avuto a quello del fatto che le opere a volte erano così nuove che non erano neanche che la vernice ancora era fresca e quindi da lì appunto nasce la parola vernissaggio quando è quindi 25? 25 gennaio dalle ore 17 17.30 accolienza ospiti ok e fino alle 20.30 ok dopo questa canzone poi ci dici bene cosa succederà all'interno del vernissaggio ok adesso andiamo con i Foo Fighters con The Glass The Glass The Glass con Foo cioè i Foo Fighters con The Glass alle 8 e 15 minuti di oggi lunedì 22 gennaio che fuori ronda tra parenti abbiamo scoperto essere anche il compleanno di Eva tanti auguri Eva grazie 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 finalmente maggiorenne finalmente finalmente posso guidare le giustificazioni gli assegni e puoi guidare sì 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 no allora tanti tanti auguri bellissima festeggione quindi il 25 si festeggia il tuo compleanno il vernissaggio della mostra ovviamente tutta la settimana si festeggia infatti una settimana di festeggiamenti giusto perfetto perché noi volevamo festeggiare poi sabato perché lunedì infatti si festeggia quindi quindi si inizia lunedì portiamo avanti giovedì grande happening e poi sabato facciamo grande festeggiamento esattamente che cosa succederà appunto giovedì da Abarth come avviene il vernissaggio di questa restart numero 2 allora abbiamo preparato un programma molto ricco di eventi e come dicevo prima ci sarà la serata di opening sarà accompagnata dalla musica dal musica dal vivo del band cover band Acoustikers e alle ore 18 abbiamo presentazione del libro un babab toccò il cielo dell'Africa del giovane scrittore Giacomo Pozzi che ha scritto un romanzo sul suo viaggio diciamo immaginario in Africa e la cosa divertente è che adesso veramente cioè lui può condividere con noi la sua vera esperienza in Africa perché finalmente è riuscito a raggiungere l'Africa e racconterà della insomma perché lui aveva scritto questo libro prima prima cioè lui aveva scritto un viaggio immaginario diciamo e adesso sono veramente molto molto curiosa di sapere cosa ha visto veramente speriamo che le aspettative siano state all'altezza perché lui mi ha già accennato e mi ha detto che hanno anche rischiato un po' perché comunque Africa è un posto molto dipende dove vai finché andate nel villaggio turistico facile no 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 lui ha fatto un'esperienza un po' un po' diversa da quella un po' wild un po' wild dell'avventura esattamente e qui presenterà appunto il libro il suo libro esatto alle ore 18 e poi alle ore 19 abbiamo la presentazione ufficiale con critico Luca Siniscalco e inoltre interverrà anche Walter rappresentante del progetto Itaca che tu conosci conosci già mi dicevi molto conosciuto a Milano esatto e non solo ma anche a Roma mi sono molto attivi e quindi loro racconteranno delle problematiche che insomma insomma loro operano in tantissimi quartieri un po' borderline di questa città e danno un grande aiuto a molti a molti cittadini a molti ragazzi soprattutto ragazzi e ragazze in difficoltà ed essere interessati appunto anche loro in certo senso appunto danno un restart danno un modo di ripartire da alcune situazioni un po' un po' difficile quindi saranno appunto ospiti d'onore di questa di questo Vermissage che appunto sarà il 25 gennaio a che ora ricordiamo inizia tutto dalle ore 17 ok 17 in poi siamo avanti fino alle 8 e mezzo fino alle 8 e mezza e subito avete la possibilità di vedere tutti i 41 artisti giusto che saranno anche più opere però perché poi alcuni si si alcuni spongono più di un'opera perché dipende sempre dalle dimensioni infatti infatti molto molto interessante se volete sapere un po' di più e capire un po' meglio sappiamo che c'è un sito su cui possiamo andare a vedere giusto? sì artspacemilano.com dove potete vedere anche i progetti che abbiamo già creato e che abbiamo in programma eccetera artspacemilano è così artspacemilano.com mi raccomando segnatevelo va bene adesso andiamo ancora con un po' di musica poi torniamo qui insieme sempre a Evamos per capire meglio e magari sapere qualche nome qualcosa di interessante di chi espone ok? Marco Mengoni ci fa entrare nella seconda parte di trasmissione però solo qualche minuto perché poi andiamo ancora scusate andiamo in pausa per poi entrare nella seconda pausa ciao ho fatto su un casino Eva che metà basta perché stavo leggendo la tolocandina ricordiamo quindi il 25 di gennaio 25 gennaio presso la galleria Bart in via privata Passo Pordò e dalle ore 5 fino alle ore 8 e 30 vi aspettiamo per l'ingulazione della mostra Restart 2 bravissimi volevo solo dire questo volevo dire appunto quindi rimanete ancora collegati con noi perché adesso parte la seconda inizia la seconda parte di trasmissione non prima però di aver ascoltato Elodie con la sua Affari Spenti ecco era facile non era difficile ma non era difficile da dire solo che fare due cose contemporanee leggere leggere una cosa e dire un'altra non fa parte proprio del mio e quindi andiamo avanti con Elodie Affari Spenti Annalisa Euphoria ed eccoloci qua nell'ultima mezz'ora di Good Morning Milano sempre qui su Cristal Radio 8 e 31 minuti 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 il numero di whatsapp a cui potete scriverci e siamo qua siamo qua ad aspettare i vostri whatsapp cosa state facendo dove state andando con chi siete magari siete da soli nel traffico disperati no perché potete ascoltare Cristal Radio quindi non disperatevi o magari siete in bella compagnia e dite oh senti questi qui bravi alla mattina su Good Morning Milano che bravi che sono bravissimi fate così questa mattina con noi Eva Amos per parlare di arte per parlare di mostre artistiche insomma questo Restart 2 il 25 gennaio apre no abbiamo letto 41 artisti Eva giusto? sì 41 artisti esattamente che arrivano da qualsiasi parte del mondo da tutto il mondo questa volta abbiamo un po' di artisti che provengono dai paesi scandinavi come Svezia Finlandia Norvegia sì sì molto interessante questo giro sempre più internazionali le tue mostre sempre più complete anche dal punto di vista dell'arte dicevamo che molti quadri che vedremo di tutti i tipi perché poi in realtà dire quadro è anche riduttivo a volte ci attaccano su cose materiche cose che escono piccoli grandi sì c'è diversità veramente impressionante quindi questo è bello secondo me nell'arte che puoi sempre vedere le cose magari nuove interessanti cioè quello che magari non aspetti mai a vedere no? ecco appunto che cosa dobbiamo aspettarci da questa edizione 2 di Restart? allora naturalmente non posso svelarvi tutto quello che è perché bisogna vedere dal vivo no? perché anche le foto non trasmettono mai le vere emozioni del quadro però come dicevo ti dicevo prima oltre le opere pittorie che abbiamo anche delle sculture e di posso raccontare magari questa allora l'artista che fa queste sculture molto particolari non ho ancora capito bene di cosa sono realizzate un po' forse di plastica o di plexiglass perché non ho ancora visto dal vivo e questo artista appunto si chiama Salvatore Pirodi che arriva da Sassari dalla Sardegna e ho già confrontato con Anna Rita la nostra amica artista esatto perché anche lei appunto è sarda e lei ha apprezzato molto le opere di Salvatore e sono davvero molto molto interessanti e dovete venire a vedere queste opere sono delle sculture piccoline un po' si si intitola Garibaldini si intitola Garibaldini si intitola Garibaldini insomma loro la ripartenza la fecero come effettivamente Garibaldini comunque ogni anno appunto a gennaio c'è questa restart ma so che non essere però l'unica mostra anzi ormai sono tante le mostre che durante l'anno vai a compiere e a preparare sul territorio milanese e non solo perché ti ricordi che l'anno scorso siamo andati anche a Barcellona per fare la mostra la nuova edizione della mostra Mars la mostra sull'amore pensate che comunque il paese come Spagna potrebbe apprezzare l'argomento come è andata? è andata bene? è andata molto bene poi anche la zona della galleria e appunto è sempre a Barth la galleria e si trova nella zona di Barceloneta vicino al mare quindi veramente siamo trovati bene vediamo di comunque andare avanti con questa collaborazione ok allora adesso ci ascoltiamo con la pesce di Martino poi mi racconti un po' invece cosa altro sta per arrivare a Milano magari se ci puoi dare qualche anticipazione così ci portiamo avanti e ci rissegniamo anche già sul calendario con la pesce di Martino musica leggerissima con la pesce di Martino musica leggerissima come potrebbe essere o no quello dipende un po' da voi andare ad esempio alle mostre di Evamos perché a volte è bello andare con la leggerezza del vedere qualcosa di bello e basta altre volte invece è bello approfondire e capire il significato profondo che c'è in tantissime opere e sono davvero tante in questo caso parliamo di Restart 2 che apre il 25 di gennaio appunto a Abarth zona Fondazione Prada via Passo Pordoi con 41 artisti una cinquantina di opere più o meno siamo lì più o meno più o meno lì da tutto il mondo ma come vi dicevo appunto Abarth non fa cioè scusate Art Space e Evamos non fanno solo questa mostra ne fanno tante tante altre abbiamo raccontato appunto di Amars fatta a Barcellona qualche tempo fa ma a Milano sono tante cosa c'è in calendario allora possiamo già scoprire svelarvi la prossima mostra che stiamo su quale stiamo già lavorando è una mostra molto importante per noi perché il tema è davvero molto interessante perché si parlerà di della città di Milano quindi la mostra si intitola Milart e gli artisti presenteranno le opere che parleranno della città metropolitana quindi e poi come sempre da tutto il mondo eh sì sarà interessante vedere anche che idea hanno della nostra città nel resto del mondo è una bella scommessa sì una bella scommessa perché naturalmente uno che non abita cioè che non è di Milano è difficile già per quelli che non abitano a Milano per italiani che non abitano a Milano fare questo omaggio no? sì magari proprio per chi è così lontano magari invece è più semplice perché è un posto esotico da pensare cioè se immaginassi di fare un quadro che parla di Tokyo magari mi verrebbe se mi dici di fare un quadro che parla di Pavia magari è più difficile per me è un po' più difficile esatto quindi effettivamente sarà interessante vedere che cosa che idea allora diciamo che sicuramente parlare di Milano è molto più facile che di Pavia senza togliere nulla da no no senza togliere una Pavia è una bella città perché ci sono cioè Milano ormai è diventato un brand quindi ci sono tante cose Milano Fashion Week Design Week e l'arte Leonardo c'è di tutto è veramente interessante sarà molto interessante si sa già quando verrà fatta questa mostra più o meno un periodo si 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 sa già il periodo dal primo al 10 marzo ah marzo ok quindi un risveglio primaverile insieme all'arte di Eva di Milano sì mentre per quanto riguarda la location ci spostiamo nella galleria Maek che appunto si trova due passi dal Duomo e una delle attraverse di via Torino quindi più Milano di così infatti nel centro di Milano per parlare di Milano con ospiti artisti che arriveranno appunto da tutto il mondo hai già idea anche di altre mostre che farei più avanti temi che ti piacerebbe trattare allora per il momento ho solo diciamo il periodo ma sto ancora ragionando sul tema vogliamo fare la mostra durante la la design week ad aprile però sto un po' ragionando sul tema cioè mi piacerebbe fare qualcosa legato con design però voglio un po' indirizzare magari dare qualche va bene un po' di tempo ce n'è ancora per pensarci bene e se voi avete qualche suggerimento 331 7853 555 potete scrivere un whatsapp e noi insomma ci pensiamo va bene comunque ricordatevi che invece il 25 di gennaio cioè giovedì inizia invece Restart 2 e quindi mi raccomando seguite tutto quello che è sui social di Eva di Art Space per capire meglio quello che potrete andare a vedere al Vernissage di Restart adesso ultima canzone poi torniamo a salutarci qui con Eva e a darvi gli ultimi appuntamenti per non perdervi neanche un momento appunto di Restart 2 e quest'era i cranberries con zombie 8 e 48 minuti lunedì 22 gennaio tanti auguri ancora a Evamos per il suo compleanno e Evamos che appunto siamo in conclusione siamo in chiusura devi ricordarci tutto quello che dobbiamo sapere su Restart 2 allora il 25 gennaio dalle ore 5 vi aspetto per l'apertura della seconda edizione della mostra Restart con 41 artisti e non solo perché ci saranno altri eventi all'interno del Vernissage altri eventi proprio appunto nella sera per l'apertura e come per esempio la musica live del gruppo Acoustikers 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 che tra l'altro ascoltando la canzone zombie sono ricordate perché loro non è la prima volta che vengono da noi per suonare e loro fanno molti cover e hanno fatto cover anche zombie e poi alle ore 18 abbiamo la presentazione del libro di giovanissimo talentuoso scrittore Giacomo Pozzi che presenterà il suo libro Un baobab toccò il cielo dell'Africa Un baobab con il cielo dell'Africa? Un baobab che toccò Ah che toccò il cielo dell'Africa Un baobab che toccò il cielo dell'Africa esatto tra l'altro bellissimo libro che ho letto e consiglio a tutti ma se avete possibilità di venire a ascoltare lo scrittore è assolutamente consigliatissimo mentre alle ore 19 vi aspettiamo per la presentazione ufficiale con critico d'arte Luca Siniscalco e Walter rappresentante del progetto Itaca che racconterà di quello che si occupa la fondazione come aiuto come aiutano ai ragazzi che sono in difficoltà e dopodiché inizia la mostra dopodiché inizia lo show e chiede avanti fino a quando hai aperta la mostra fino a che giorno rimarrà aperta allora in realtà durerà un po' la mostra fino al 18 febbraio quindi avete ben tre settimane di tempo ma è sempre super consigliato venire per l'opening perché potete conoscere gli artisti dal vivo parlare sono tanti sono tanti gli artisti che vengono il giorno del message nonostante siano sparsi per il mondo comunque li trovate di tanti la cosa sorprendente è che molti artisti esteri e internazionali verranno proprio per l'opening quindi mi hanno già avvisato che veniamo da Norvegia Portogallo quindi se volete anche farvi degli amici lontani per poi magari farvi ospitare potete anche provare questa potrebbe essere un secondo fine sa mai andate lì fate i gentili sa mai che magari quello norvegese dice ma poi vieni a trovarmi va bene sono già lì in quest'estate vado da quelle parti esatto a vedere un po' di fiordi voglio fare un viaggio su dalle parti della Norvegia quindi adesso a questo punto verrò a cercare consiglio anche dai tuoi artisti ricordiamo quindi appunto dalle 17 dicevi giusto dalle ore 17 fino alle 8 e mezzo ok Ab Art via Passo Portogallo l'opening il vernisage di Restart 2 questo è quello che succederà appunto questo giovedì giovedì ricordiamo che giovedì perché spesso veneri dice non è venerdì è giovedì si l'ho scoperto due settimane fa che il 25 non è venerdì ma giovedì quindi fai bene a sottolineare che è giovedì perché sei uno magari abituato che queste cose vengono fatte di venerdì così per chiudere la settimana invece no non è fatto di giovedì quindi secondo me è anche più interessante ormai basta basta questa cosa del venerdì ormai è passata non è più così non è più così va bene allora Eva grazie mille di essere stata qui con noi grazie mille grazie a te Fabio seguite Evamos sui social e anche Arts Artspace giusto? sì Artspace Milano Artspace Milano seguitelo così che potete avere tutte le informazioni su quello che avviene e quello che costruiscono in questa città e non solo grazie mille Evamos andiamo ancora con un po' di musica e poi torniamo qui per i saluti finali adesso è Ozuna insieme a David Guetta con Vocation Good Morning Milano